Foreign Service Institute Italian Familiarization and Short-Term Course Lesson 12 At the Embassy Dialogue for Listening Venga, signor Zappalà, le faccio vedere il suo ufficio. Grazie, ma non vorrei disturbarla. No, prego, ecco, è questo. Non è molto grande, come vede, ma è molto luminoso perché le finestre danno sulla piazza. Sì, è molto bello. Non vedo l'ora di cominciare. La lascio un momento, torno subito. Eccomi di nuovo. Spero proprio che vi troviate bene nell'albergo che vi abbiamo prenotato. Sì, ci troviamo bene, anche se con i bambini è un po' difficile. Quanti anni hanno? Matteo ha 11 anni e Giovanna ne ha 9. Andranno a scuola, allora? Sì, Matteo è iscritto alla Overseas e Giovanna alla Marymount. Siete contenti di essere a Roma? Oh sì, siamo sicuri che ci troveremo molto bene. Dialogue for Repetition Venga, signor Zappalà. Le faccio vedere il suo ufficio. Grazie, ma non vorrei disturbarla. No, prego, ecco, è questo. Non è molto grande, come vede, ma è molto luminoso perché le finestre danno sulla piazza. Sì, è molto bello. Non vedo l'ora di cominciare. La lascio un momento, torno subito. Eccomi di nuovo. Spero proprio che vi troviate bene nell'albergo che vi abbiamo prenotato. Sì, ci troviamo bene, anche se con i bambini è un po' difficile. Quanti anni hanno? Matteo ha 11 anni e Giovanna ne ha 9. Andranno a scuola, allora? Sì, Matteo è iscritto alla Overseas e Giovanna alla Marymount. Siete contenti di essere a Roma? Oh sì, siamo sicuri che ci troveremo molto bene. Taking it apart. Vocabulary. Even though. Anche se. Anche se. They will go. They probably go. Andranno. Child, childlike. Bambino. Bambino. Beautiful. Bello. Bello. We're comfortable. We like it. Ci troviamo bene. Ci troviamo bene. We will like it. We are going to like it. Ci troveremo bene. Ci troveremo bene. Come vede. As you can see. Come vede. Come vede. Happy. Contento. Contento. to face, look out over dare su they face the square danno sulla piazza difficult again di nuovo to bother, disturb disturbare to bother you, disturb you disturbarla disturbarla big grande grande to enroll iscrivere iscrivere he is enrolled è iscritto è iscritto è iscritto I'll leave you la lascio la lascio I'll show you le faccio vedere bright luminoso luminoso moment momento I can't wait to non vedo l'ora di non vedo l'ora di little poco 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 a little un po un po really proprio proprio how old are they quanti anni hanno quanti anni hanno scuola 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 sure positive sicuro sicuro to hope sperare sperare I hope spero spero I hope you are comfortable spero che vi troviate bene spero che vi troviate bene to come back tornare tornare I'll come back torno torno to you for you vi vi we have reserved for you vi abbiamo prenotato vi abbiamo prenotato additional vocabulary friend amico amico nursery school asilo nido asilo nido house home casa casa we're thinking about it we're considering it ci stiamo pensando ci stiamo pensando female femmina femmina son child figlio figlio to attend frequentare frequentare twin gemello gemello the older the oldest son il più grande il più grande the little one the youngest il più piccolo il più piccolo position assignment incarico incarico husband marito marito male maschio maschio wife wife moglie boy ragazzo ragazzo scuola materna scuola materna both tutti e due tutti e due useful utile utile getting the feel of it pronunciation practice grazie ma non vorrei disturbarla grazie ma non vorrei disturbarla sì è molto bello non vedo l'ora di cominciare sì è molto bello non vedo l'ora di cominciare sì ci troviamo bene anche se con i bambini è un po' difficile sì ci troviamo bene anche se con i bambini è un po' difficile matthew matthew ha undici anni e giovanna ne ha nove matthew ha undici anni e giovanna ne ha nove sì matthew è iscritto alla overseas e giovanna alla merimount sì matthew è iscritto alla overseas e giovanna alla merimount oh sì siamo sicuri che ci troveremo molto bene oh sì siamo sicuri che ci troveremo molto bene working with the language model one io andrò a Canberra e lei londra io andrò a londra luca andrò a napoli ed eugenio breccia eugenio andrò a brescia chiara e giuliana andranno a novara e loro bologna loro andranno a bologna la signora ferrari andrà a palermo e maria trieste lei andrà a trieste noi andremo a pavia e voi parma noi andremo a parma voi andrete a genova e noi como voi andrete a como io andrò a Roma e lei torino io andrò a torino model two dove vanno adesso i due signori bar non so andranno al bar dove va adesso una segretaria capo ufficio non so andrà dal capo ufficio dove vanno adesso le signorine cinema non so andranno al cinema dove vanno adesso i figli della signora scuola non so andranno a scuola dove va adesso Silvana prendere un caffè non so andrà a prendere un caffè dove andate adesso voi centro non so andremo in centro dove vanno adesso gli insegnanti bar non so andranno al bar model three vi trovate bene a Palermo oh sì siamo contenti di essere a Palermo si trova bene a Milano la signora Chiari oh sì è contenta di essere a Milano si trova bene a Verona il signor Druso oh sì è contento di essere a Verona vi trovate bene a Firenze oh sì siamo contenti di essere a Firenze si trovano bene a Napoli le signorine oh sì sono contente di essere a Napoli si trova bene a Vicenza lei oh sì sono contento di essere a Vicenza si trovano bene a Palermo i signori Williams oh sì sono contenti di essere a Palermo model four vi troverete bene oh sì siamo sicuri che ci troveremo bene conoscerete i signori i signori Russo oh sì siamo sicuri che li conosceremo prenderete il tassi oh sì siamo sicuri che lo prenderemo capirete tutto oh sì siamo sicuri che capiremo tutto uscirete presto uscirete presto oh sì siamo sicuri che usciremo presto arriverete in orario oh sì siamo sicuri che arriveremo in orario model five loro arrivano in orario e loro spero che anche loro arrivino in orario loro portano il libro e loro spero che anche loro portino il libro loro cominciano adesso e loro spero che anche loro cominci no adesso loro girano a sinistra e loro spero che anche loro girino a sinistra loro si trovano bene a palermo e loro spero che anche loro si trovino bene a palermo loro cambiano cento dollari e loro spero che anche loro cambino cento dollari loro arrivano in orario e lui spero che anche lui arrivi in orario loro loro portano il libro e lei spero che anche lei porti il libro loro cominciano adesso e lui spero che anche lui cominci adesso loro girano a sinistra e lei spero che anche lei giri a sinistra loro si trovano bene a palermo e lui spero che anche lui si trovi bene a palermo loro cambiano cento dollari e lei spero che anche lei cambi cento dollari model six loro scrivono spesso e loro spero che anche loro scrivano spesso loro scendono all'ultima fermata e loro spero che anche loro scendano all'ultima fermata loro ripetono la lezione e le signorine spero che anche le signorine ripetano la lezione loro mettono le valigie sul tavolo e i signori spero che anche i signori mettano le valigie sul tavolo loro vogliono andare a casa e loro spero che anche loro vogliano andare a casa loro prendono l'autobus e loro spero che anche loro prendano l'autobus loro scrivono spesso e lui spero che anche lui scriva spesso loro scendono all'ultima fermata e lei spero che anche lei scenda all'ultima fermata loro ripetono la lezione e la signorina spero che anche lei ripeta la lezione loro mettono le valigie sul tavolo e lui spero che anche lui metta le valigie sul tavolo loro vogliono andare a casa e lei spero che anche lei voglia andare a casa loro prendono l'autobus e lui spero che anche lui prenda l'autobus model 7 luca e armando capiscono tutto e pino e mara spero che anche loro capiscano tutto loro restituiscono le chiavi e loro spero che anche loro restituiscano le chiavi loro finiscono la lezione e loro spero che anche loro finiscano la lezione loro preferiscono l'albergo e i signori spero che anche i signori preferiscano l'albergo loro dicono la verità e loro spero che anche loro dicano la verità loro vengono alle sette e mezzo e loro spero che anche loro vengano vengano alle sette e mezzo model 7 repeated with lui and lei luca e armando capiscono tutto e lui spero che anche lui capisca tutto loro loro restituiscono le chiavi e lei spero che anche lei restituisca le chiavi loro finiscono la lezione e lui spero che anche lui finisca la lezione loro preferiscono l'albergo e lei spero che anche lei preferisca l'albergo loro dicono la verità e lui spero che anche lui dica la verità loro vengono alle sette e mezzo e lei spero che anche lei venga alle sette e mezzo model 8 pinella e lucia sanno tutto e loro spero che anche loro sappiano tutto loro sono in vacanza e loro spero che anche loro siano in vacanza loro hanno tempo e loro spero che anche loro abbiano tempo loro stanno bene e loro spero che anche loro stiano bene loro danno gli scontrini e loro spero che anche loro diano gli scontrini loro vanno a casa alle cinque e loro spero che anche loro vadano a casa alle cinque loro fanno tutto e le signorine spero che anche le signorine facciano tutto loro devono andare a casa e i signori spero che anche i signori debbano andare a casa model 8 repeated with lui and lei pinella e lucia sanno tutto e lei spero che anche lei sappia tutto loro sono in vacanza e lui spero che anche lui sia in vacanza loro hanno tempo e lei spero che anche lei abbia tempo loro stanno bene e lui spero che anche lui stia bene loro danno gli scontrini e lei spero che anche lei dia gli scontrini loro vanno a casa alle cinque e lui spero che anche lui vada a casa alle cinque loro fanno tutto e lui spero che anche lui faccia tutto loro devono andare a casa e lei spero che anche lei debba andare a casa model 9 lei arriva sabato spero di arrivare sabato lei porta qualcosa spero di portare qualcosa lei esce stasera spero di uscire stasera loro ricordano l'indirizzo sperano di ricordare l'indirizzo lui arriva domenica pomeriggio spera di arrivare domenica pomeriggio la signorina parte venerdì la signorina parte venerdì sera spera di partire venerdì sera voi cominciate a lavorare domani speriamo di cominciare a lavorare domani speriamo di cominciare a lavorare domani italian fast course spero di spi all'indirizzo speriamo di spi allare dai